Ma Cristina, io ti voglio chiederti un po' in Italia, a Cilde. Your father is very angry because he didn't want to go to America. He didn't want to go to America. Ok. Allora, quando era piccolo, il padre stava arrabbiato perché non poteva arrivare in America. No, voleva. No, 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 no. Sì, ho sentito quello che gli hai detto, l'interpretazione italiana. Quello che gli hai detto l'inglese l'ha benissimo. Il padre era piccolo quando stava qua e il nonno suo stava in America. Il nonno non poteva arrivare in Italia a figliarsi lo figlio. E il figlio non si muoveva io all'America perché non piaceva stare qua. Ha capito? Raffa, Giulia. Ma, che se neanche se neanche sei? Ma, che se neanche se neanche se neanche sei un paio, succede? È vero. Ma,uli, dov auguri. Beh, se neanche io ti voglio exacto, ci sei un paio. Ma, questa è vero, è vero. Questa è vero. La cosa è vero. Ma, lei sposa, lei. No, è vero, la cosa è vero. Questa era la testa, dicendo. Dom Manu all'albero, mi scorda la sua Petrozza, detta. Petrozza, detta Petrozza. Ma non avete scritto Petrozza? Ce lo dicendo, già lo stai in scusa. No, te ne pensano delle persone. Te ne scritte Petrozza tra me. Ma per quanti anni fa hai tenuto un franco del pezono a via? E sì? E io ti ho cercato di fare l'entrimento del pezono. Ma lui, come le pezze? C'è un pezzo. 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 Bueno, mio padre used to say When he was here He was a little boy. Okay. He was treated like a prince Royalty Because He was the oldest son Of the oldest son. Sì, 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 sì.